Oh signore del cielo, il ministero è solo una multinazionale che organizza gioco, un club, come ci chiama sarcasticamente la gente comune. Nessuno è obbligato a partecipare al gioco. Sia gentile, non è un problema mio. Oh, ascolta, mi dico a te! Sicurezza! No, no, mi scusi, mi scusi, davvero, non ho nessuna intenzione di farmi durare degli scali di faccia. Voglio solo che lei mi ascolti. Io li conosco a quelli come lei. Sembra proprio che vi piaccia complicarvi la vita, eh? E poi guardi, anche chi gioca nel rollo di qualità può provare ad uccidere il proprio cacciatore, sa? Farò certo, chi pecora si fa, il lupo se la mangia. Il mondo è deliziosamente pieno di persone che non pensano bene a quello che fanno. E un bene, sa? Selezione naturale. Buona giornata. Sicurezza! Sicurezza! Sicurezza!